Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Pizza Dog Gamer, stiamo per fare una sfida adrenalinica. Ebbene, se si tratta della Sbucket Challenge, dopo che me l'avete chiesto in 150 giù di l'indale, non potevo ignorarvi e non farla, quindi ho qui questo sito che è pronto ad essere usato. Io non ho una telecamera, quindi la quantità non sarà il massimo. Ragazzi, voi non ci crederete, ma queste cose in testa fanno malissimo, comunque è il momento di fare la sfida sul set. Quindi ragazzi, non posso registrare meglio così, ma io ad esempio è qui Ghiaccioli e vi farò vedere che c'è tutto. Cazzo, forse non ho puntato, vabbè, ce ne ho messi 15, oh mio Dio. Non so se adesso mi sentite contro i film, è spesso di una volta, non avrei mai fatto una sfida così, non si sarebbe mai tirata, ho viaggiato all'occhio. Quindi ringrazio tutti per la nomination e prima di essere arrabbiato nomino, Planet Gameplay, io Tobi e Barack Obama. Quindi sperando che loro accettino la mia sfida, io vado anche se spero di non morire. Allora ragazzi, siete colventi che sei un grande pizza, questa cosa se lo merita dai, un mi piace. Io vado. Ragazzi, non potete capire, comunque sia, spero vi sia piaciuto il video, condividetelo, vi fareste un immenso favore. E cazzo se sono sveglio ora, sono svegliissimo. Ah ragazzi, adesso sono iperattivo, iperattivo. Come sempre invito a condividere il video perché aiuta tantissimo, vi prego fate, lasciate un bel mi piace, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video.